Friol è per sempre. Frigge croccante e asciutto perché è Friol. La piccola Natalie si perde nel bosco, un passo falso, e cade in un dirupo. A bordo di un peschereccio, il vortice di un'elica travolge Cosimo, imprigionandolo tragicamente. La tannica di benzina si rovescia nel bagagliaio, Evelyn accende un sigaro ed è subito una torcia umana. Infine, la ferocia dei coccodrilli nelle immagini impressionanti girate da un video amatore. Storie vere raccontate dai protagonisti, di Eroi per caso. Vi aspetto domani sera alle 20.40 su Italia 1. Così fresco e intenso, Vigorsol può cambiare il gusto della tua vita. Guarda che punto! È punto sole! Nuova gamma punto, da lire 119.000 al mese con formula. Il segreto contro le rughe e c'è, è nascosto nella tua pelle. È il coenzima naturale Q10. E da oggi il Q10 è anche in questa crema. Perché più Q10 per la tua pelle significa una pelle più giovane. Dipende solo da te. Il Q10 naturale della pelle, ora nella nuova crema antirughe Q10. Da neve a visage. È arrivato un asciutto più dolce! Linus Dolce Asciutto! Il nuovo pannolino Linus ad assorbenza così veloce che assorbe circa in metà tempo. E anche se lo schiacci, resta asciutto! Per lei e per lui, Linus Dolce Asciutto. Un asciutto più dolce. Candy sa quale è lo sporco più difficile. Per questo ha creato il sistema HPS. Per pulire a fondo. Anche a mezzo carico. E con delicatezza. Ho scelto. È Candy. A volte scegliere diventa difficile. Nel nuovo grande mercato dell'euro, affidatevi a Finanza e Futuro del gruppo Deutsche Bank. Saprà consigliarvi i giusti investimenti. Finanza e Futuro sono il nostro mestiere. Per una pelle sensibile come la mia, c'è solo Nivea Deolatte. Efficace, ma delicato. Senza alcol. Persino dopo una prova come questa, Nivea Deolatte è come una piuma per la mia pelle. Nivea Deolatte senza alcol. Delicato come una piuma. Toyota Avensis. Tutto. E cinque anni di garanzia. Provate la differenza. Sabato 10 e domenica 11 dai concessionari Toyota. Fai un break. Spezza con KitKat. Da oggi c'è la crostatina a mulino bianco per tutti. Perché nelle nuove confezioni ci sono più merende ben dieci. È così conveniente, è così buona. È la nuova crostatina da dieci merende mulino bianco. Mi chiamo Smith, sono il supplente. Ah, Clodoro, solo il presidente. Comando io in questa classe. Ok, lo lasciamo uscire dalla scuola. Non gli spariamo subito. Voglio affettarla un po' prima. Ha finito di insegnare storia e qui si conclude la sua di storia. Tom Berenguer in una prima visione Italia 1. L'ora della violenza. Venerdì alle 20.45.